In questo giorno molto speciale, il 21 settembre 2013, voglio ringraziare la mamma e ringraziare i suoceri, la mia nata, i miei amici, i miei amici più stretti, che hanno speso un po' di tempo a scrivere un messaggio e soprattutto a Marco, che è dietro questa camera e sta Grazie